A Seveso in via Edison, in un contesto residenziale, si vende un appartamento al secondo e ultimo piano di una palazzina. L'appartamento è mansardato, recentemente ristrutturato e si compone di un soggiorno dotato di angolo cottura di un balcone, un corridoio, il locale dei servizi, la camera da letto. Il tutto per una superficie commerciale di 56 metri quadri circa. Il prezzo base è di Euro 100.000. Si ricorda che chiunque può partecipare all'asta e che, come in tutte le procedure di questo tipo, non sono dovute le spese notarili. Maggiori informazioni presso lo studio del dottor Zonca allo 0266 99 241. Grazie a tutti.